Le carenze sono sotto gli occhi di tutti, non si può aspettare un nuovo terremoto, una nuova tragedia come quella dei mesi scorsi per ricordarsi che l'edilizia scolastica irpina avrebbe bisogno di essere messa tutta a norma. E' allarme scuola in provincia di Avellino, due i fronti caldi, da un lato il calo del numero di iscrizioni e quindi di insegnanti necessari, dall'altro la precarietà degli edifici scolastici. Questi temi al centro del secondo congresso della CISL scuola Irpina Sannio che conferma segretario l'uscente Elio Barbarisi. C'è un calo notevole di iscrizioni per l'anno prossimo, insomma perdiamo circa 800 alunni nella scuola superiore, circa 400 nella scuola primaria, questo vale anche per la provincia di Benevento. Sono numeri paurosi perché siamo di fronte a cali che sfiorano nella superiore il 13-14%. Questo significa che sarà difficile continuare ad avere gli stessi livelli di organici del corrente anno. Al congresso anche la segretaria nazionale di categoria che si sofferma sui contratti e sul rapporto con il governo. Una scuola che non può essere coinvolta da riforme è non sentirsi coinvolta direttamente nella gestione di queste riforme. Basta con le riforme dall'alto, abbiamo bisogno di discutere perché abbiamo voglia anche noi di cambiare, di rinnovare, ma abbiamo bisogno di condizioni. Il contratto per esempio è una condizione che aiuterà sicuramente i lavoratori della scuola. Grazie. 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 Grazie.